Sembrava innamorato ma poi ha fatto retromarcia. Allora, capita molto spesso che una persona apparentemente sembra innamorata ma poi di fatto fa retromarcia, cioè si tira indietro, non fa più niente. Questo perché succede, perché capita? Beh, le motivazioni possono essere tante ma non dipende solo da questa persona, dipende molto anche dal tuo comportamento. Questo vale in generale negli esseri umani. Noi non agiamo, come dire, indistintamente, sempre, come dire, con tutti il nostro modo. La comunicazione è interattiva, cioè c'è un'interazione, siamo interdipendenti. Qualche volta ci comportiamo in un certo modo per un certo motivo. Questo devi tenerlo presente, è un fatto fondamentale. Allora, perché capita questo? Perché succede questa cosa? Beh, bisogna tenere presente alcuni fattori fondamentali da questo punto di vista che sono il voler, diciamo, ottenere un risultato e quando uno l'ha ottenuto se ne va via. Quindi il caso più tipico è quello che dopo che gliel'hai data sparisce. Ma ci sono casi in cui sparisce anche prima che tu gliel'hai data. Questo perché capita? Beh, capita perché ci sono alcuni uomini che nel momento in cui hanno l'obiettivo di sedurre, di conquistare. Ma è un obiettivo che non è neanche conclamato a livello logico e razionale. Cioè non è che dicono adesso vediamo se riesco a fare innamorare questa così poi la mollo. è proprio una esigenza inconscia fondamentalmente, per cui la percezione che hanno loro è di volerti conquistare. Nel momento in cui hanno la percezione che tu sei coinvolta, non soltanto perché gliel'hai data, ma proprio perché si percepisce quando c'è un attaccamento energetico, la persona si tira indietro. Si tira indietro, non vuole andare oltre, è soddisfatta così. Ma ripeto, non per ragionamento, è proprio una esigenza inconscia. E poi ci sono altri casi, io ti dico tutti, così tu devi evitarli tutti, perché non c'è un'unica motivazione a cui fare retromarcia. Allora, ripeturiamo. Primo, perché gliel'hai data. Secondo, perché ti percepisce come innamorata. Terza motivazione possibile è che questa persona, una volta che, diciamo, ha interagito con te, sia che gliel'hai data, sia che non gliel'hai data, comunque ti sei dimostrata da subito appiccicosa. Hai fatto l'amalgacozza. Sei stata troppo, diciamo, coinvolgente, coinvolta, ti sei appiccicata. Indipendentemente da tutto, ti sei appoggiata a lui, ti sei dimostrata bisognosa. Questa è un'altra motivazione, molto importante. Ma ce ne sono tante altre motivazioni. Quindi, poi, dici, ma allora praticamente spariscono sempre. No, beh, no, infatti, te le voglio dire tutte, in modo tale che tu poi possa agire, e agire di conseguenza. Un'altra motivazione è che sembravi innamorato, ma tu hai, tra virgolette, ferito troppo il suo orgoglio. Cioè, hai penalizzato da un punto di vista logico. Le penalizzazioni vanno benissimo, ma devono essere analogiche. Se tu gli dici, mi fai schifo, non vale niente, sei un cretino, per dire direttamente a livello logico, lo penalizza. Non è quella la penalizzazione che fa innamorare. Non è quella. La penalizzazione deve essere analogica, devi suscitare dubbi, devi suscitare emozioni. Poi la chiamiamo penalizzazione, non vuol dire offesa. Penalizzazione vuol dire che devi suscitare emozioni, amplificare emozioni. L'offesa è un'altra cosa. L'offesa innesca meccanismi difensivi. Certo, qualcuno si aggancerà pure, i masochisti, che vogliono a livello logico essere penalizzati. Ma tolti i masochisti non c'è nessun altro che, diciamo, ha queste esigenze, queste caratteristiche. Questo te lo devi mettere nella testa. Quindi, se tu vuoi ottenere qualche risultato, devi smetterla di comportarti, diciamo, in modo arrogante. Altre motivazioni possono essere che, appunto, ti ha percepito a livello logico come una scrocona, ad esempio. Una che, se poi ci si mette assieme, diventa una sanguisuga. E allora, piuttosto che restare con una persona del genere, preferisce togliersela dai coglioni. E questo, diciamo, è un altro punto molto importante, un altro punto fondamentale. Perché se vieni percepita come una rompicazzo, diciamo, come una scorcona, come una bisognosa, ma più che bisognosa, una sanguisuga, diciamo, certo, poi ci può essere quello che si aggancia anche alla sanguisuga, ma la maggior parte no, come dire, la maggior parte dei maschi no. Altre motivazioni, diciamo, che possono spingerlo a fare retromarcia sono sempre motivazioni di ordine logico-razionale. Questo, perché non ti porti nel caletto? Perché capisce da un punto di vista logico che tu non vai bene e quindi, diciamo, ci possono essere... e percepisce anche che tu sei poi una rompipalle, no, dopo. Quindi, che tu non vai bene per quel motivo. Beh, le motivazioni logiche potrebbero essere, intanto, che non piace alla madre, da un punto di vista generale, come tipologia di donna, che sei... che può essere un motivo legato all'età o troppo grande, più facile, o troppo giovane, oppure che magari hai dei figli, che hai situazioni incasinate. Ci sono quelli che preferiscono tirarsi indietro, insomma, perché percepiscono problematiche di natura logico-razionale. Ecco, se tutte queste sono le motivazioni che lo spingono ad andare indietro, che devi fare? Beh, allora, il consiglio è presentati al meglio quando interagisci con un uomo della tua femminilità, perché l'essere femminile è sempre valutato positivamente da tutti. Presentati elegante di classe raffinata, perché questo piace universalmente a tutti gli uomini. Femminile, elegante di classe raffinata. Sensuale, seducente, stimola, ma non darla subito, deve fare qualche investimento prima. Questa è altra cosa importante. Ma non dirgli neanche non tarderò mai e poi mai perché mi fai cagare. No, devi seminare sempre dubbi, perché il dubbio è la quintessenza della seduzione. Invece la certezza è un po' il bacio della morte, se vogliamo, della seduzione. E poi, una volta che hai fatto questo, cosa devi fare? Beh, un'altra cosa molto importante è quella di parlare poco di te. Cioè, farti vedere come una donna di successo, però. Quindi non farti vedere né bisognosa, economicamente soprattutto, farti vedere. Ma non stare a raccontare i tuoi scheletri nell'armadio. Non dire, sono disoccupata, mi hanno lasciato, devo trovare un uomo da sposarmi. No, perché se metti vincoli logici scappano. Questa è un'altra motivazione per cui scappano. Perché subito ho messo vincoli logici. È la cosa peggiore che puoi fare. Se tu riesci, diciamo così, a fare tutto questo, e aspetterai che lui farà degli investimenti su di te, in termini di tempo, in termini di valutazione, in tanti modi, puoi renderti conto sicuramente che riuscirai...